Buonasera! Buonasera! Buonasera e benvenuti alla quinta edizione della sagra del filmino del matrimonio! Dico degno! Dico degno, giusto! Sicuramente vogliamo ringraziare anche Manuel Moreno che ha vinto il confetto d'oro di Sulvola con il filmino se ti amerei per sempre! Un applauso! Piutu! 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 Che degno! Siamo là! Ma chi è lei? Scusi! Scusate, io veramente non ne rispondo! Fatemi un altro applauso così se ne vanno via per noi! Grazie! Grazie! Perché adesso è arrivato il momento, li convinco io, ci guardiamo il backstage di Porto Marco 4... Chiamate la sicurezza! Però siete fuori di testa! Venite! 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 Porto Marco 4 torna a Collegno, torna nella nostra città ed è una bellissima occasione per far conoscere dei posti importanti e davvero apprenti di Collegno. Quindi una nuova edizione con un'idea secondo me vincente che è quella di far sfidare i nostri filmmaker nei luoghi più belli della città. Direi di partire subito con la presentazione istituzionale naturalmente da parte del sindaco della città di Collegno Silvana Costato e dell'assessore alla qualità della vita Paolo Maccagno. Grazie! Buonasera, ma io ho già iniziato, se così si può dire, con le battute iniziali del backstage e quindi le cose che penso su questa quarta edizione di Porto Marco sono quelle che ho detto lì, il valore per la nostra città. E questa sera posso dire, aggiungere solo questo, che abbiamo forse scommesso troppo poco o insomma ci credevamo, però ecco, la vostra presenza questa sera ci conforta davvero molto. Vuol dire che, primissimo piano, Carlo Saito, Domenico Monreale ci credono tantissimo e davvero hanno lavorato e stanno lavorando molto bene. Io li ringrazio e chiedo un applauso grande per loro, perché è davvero una grande determinazione che ci hanno proposto, si sono impegnati su questa edizione e poi questa nuova formula è davvero stata vincente perché lo dimostrate voi che siete qui. Grazie a tutti e buona serata. Io ho aggiunto, tanto sono contento di venire tantissimi giovani, faccio l'assessore ai giovani da 5 anni e questa delega so che è faticosa perché i giovani non sono tutti uguali, soprattutto oggi siete tutti con le vostre passioni, le vostre pensioni, i vostri gusti. Oggi si possono fare tante cose, dalla musica al teatro e ce l'è per tutti i gusti. Quindi riuscire a trovare qualcosa che ne unisca così tanti, riporti a Collegno e a lavorare su Collegno è una bellissima esperienza. E quello che spero anche, che ho visto soprattutto Villaggio Lerma e la Certosa, quindi Certosa, Manicomio eccetera, spero che Collegno abbia dato a tutti questi ragazzi che hanno lavorato in questi giorni, mi abbia dato anche la possibilità di riflettere su due temi che questa città ritiene importanti, che sono sicuramente la disabilità, la diversità, l'integrazione, cioè tutta quella serie di temi che rientrano nella storia del manicomio e dall'altra parte il senso e il ruolo della memoria che nella città, in una città, di Villaggio Lerma, appunto la memoria che è radicita e soprattutto ritrovarsi nel passato per avere un'idea di dove andare. Quindi la memoria come bussola per orientarci. Quindi spero che queste due cose attraverso Villaggio Lerma e Manicomio in qualche modo siano passate e sicuramente le farete in qualche modo, le ritorneremo, credo, nei sette cortometraggi. Quindi grazie e ritornate comunque a Collegno dopo Cortomatto. Grazie. Il primo lavoro in programmazione questa sera per Cortomatto 4 è L'infinito silenzio. Ce lo presenta da Croco di Slu. Molto divertimento. Buonasera. Faccio una certa impressione vedere tante gente e soprattutto tanti giovani che avrei voluto poter rifiutare così nei miei film. Vittorio presente. Forse sarete voi che non vorrete venire con me. Comunque, una spiegazione. Questo è un film, come avevo detto l'altra volta, la storia di un regista che non ha più idee. Che non ha più idee e che non sa cosa fare, non sa cosa dire. Tant'è vero che si è rifugiato in una casa di cura. Qualcuno sorride sa perché. Perché è arrivato il momento della truppa Canella e Bruneri e il titolo del lavoro è Leggero come l'aria. Grazie. Posso dire che noi ci siamo divertiti tanto. Io, l'altro ragazzo che ha fatto il soggetto, l'attore, abbiamo fatto il corso di sceneggiatura dell'Aulden insieme due anni fa e finalmente siamo trovati, abbiamo fatto un altro corto insieme, è stato bello. Innanzitutto io e l'altro Luigi, che abbiamo scritto il soggetto, ci siamo chiesti ma chi può essere l'attore? Antonio, è sicuro? Subito. Almeno non era tanto convinto. Poi abbiamo fatto un provino e poi è nato il corto da lui. E siamo al terzo lavoro in programmazione questa sera. È presentato dalla truppa Chuck & Go e il titolo è Stesso posto, altra gente. Abbiamo pensato di creare questa storia che unisse il disagio mentale di chi non si trova al suo posto in un luogo. Credo che capiti a tutti in un certo momento della vita. E quest'uomo ovviamente vive condizionato da quello che gli era stato insegnato. E trova attraverso la poesia, quindi attraverso l'arte e poi attraverso le donne, che purtroppo storicamente hanno dovuto sopportare i disastri delle guerre fatte dagli uomini e hanno dovuto ricucire con le loro relazioni d'amore quello che era stato distrutto dalle guerre. Quindi il messaggio è che quest'uomo trova il se stesso che gli permette di stare in pace. Corto Cervello ci presenta il suo lavoro dal titolo Dolore Fantastico. A tra poco. Caro il protagonista, grazie per tutti. Grazie per tutti. Volevo dedicarlo a persone che ho conosciuto, a miei amici, che sono purtroppo rimasti senza genitori a una tenere età, o chi è anche stato abbandonato dai genitori, trovandosi con genitori adottivi che con il loro amore comunque sono riusciti a farlo rivivere. Come è successo alla fine del cortometraggio, quando lui butta questo lettere musicale. Il secondo lavoro prodotto dal Fellini, dal titolo Cinque Pieno, che ci presenta la troupe dei Ned Crew. Bravi! Il porto parla appunto di questo ragazzo che vive una vita abbastanza sregolata, ha anche dei problemi familiari, una madre molto assente, ma appunto con la giusta ispirazione riesce a delevarsi grazie all'arte. Il titolo dei Diminuè è Maiale. Majakovski, malfatto. Ci vediamo da fuori. Grazie intanto e spero vi sia piaciuto. Per noi lavorare questo porto è una bella fatica, però spero sia stata pagata. Ora chiamo un attimo a raggiungermi sul palco la professoressa Marina Bergero del Fellini. Perfetto. Il regista Andrea Serafini. Fare cinema e vivere insieme, proprio la realizzazione, anche pisticciando, significa crescere. Da un po' di anni lavoro soprattutto su dei progetti di workshop, di documentari e fiction, nell'ambito di un progetto europeo che si chiama IEP. Adesso abbiamo aperto un centro, abbiamo aperto un'attività specifica su un documentario nel centro di Via Miladire, nel laboratorio di Via Miladire. Questa frase che ha scritto una sua allieva, ha postato su Facebook una sua allieva, che dice continuano a chiedere perché ho scelto un istituto cinematografico al posto di uno scientifico classico o linguistico. La risposta è molto semplice. Posso rendere i miei sogni dei video reali. Posso lavorare con i miei sogni, smussarli e crearli, fin quando non esce la parola fine e non rimanere immobile solo ad immaginarli. e credo che il lavoro migliore non possa esistere. la truppa e gli straccioni e ci presentano Guicet Sulla lavorazione ringrazio Lidia Cirafisi da Palermo che ha fatto il vestito in due giorni, è una costumista del teatro Rassimo di Palermo e abbia visto un vestito fantastico. Un grande professionista della fotografia che si chiama Renzo Miglio. Il gruppo musicale delle Yavanna. Forse il mondo gira intorno a me Voglio stare dentro Sono sempre al centro Forse il mondo gira intorno a me Allora, ci sono parecchie persone che dobbiamo ringraziare. Primo tra tutti Licio, dei Sussoni che è il nostro produttore artistico che è il primo percorso di noi e che ci ha accompagnato in questo percorso di ricerca musicale che è avvenuto subito dopo Aldo Malcangi Lui è l'artista che ha ispirato questo video L'abbiamo conosciuto sempre tramite Licio e siamo andati a vedere una sua mostra alla presentazione della Biennale di Venezia Alessandro è stato il regista di questo video E' stato veramente impegnativo anche perché allora non li dai molto molto chiare su quello che vogliono fare a livello artistico Mi ha illusione Aiutami Un'infusione Applausi Un'infusione 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 Il produttore prima deve guardare in originale poi sovrappone la sua voce alla colonna originale poi viene tolta la colonna originale e finalmente si vede il film con la voce italiana E' istitutrice Il suo discepolo ha otto anni Charlie è alto per la sua età e ha tirato dell'inchiostro oggi Ne ha due gocce nell'orecchio in effetti Il lutinga è quasi indelebile Un gesto impetuoso da parte del ragazzo ma lei è troppo esperta per reagire in modo impulsivo per questo la signora per cui lavorare ha prestato la collana per le orientali diamanti un rubino non proprio le gemme di un'istitutrice Ma i gioielli che non porta ci svelano più cose Era fidanzata L'anello non c'è più ma la pelle più chiara suggerisce che ha passato del tempo all'estero scogliandolo con fierezza ma poi informata del suo vero e più costo e modesto valore ha rotto il fidanzamento ed è tornata in Inghilterra a caccia di prospettive migliori Un medico magari Grazie La responsabile dei nostri domenico social media Giovanna Garriello eccola qua Vieni Giovanna Questa nuova edizione di Porto Matto si è evoluta anche nel rapporto diretto con tutti i partecipanti proprio perché le nuove tecnologie di noi in media ma soprattutto la grande capacità dei ragazzi di dialogare e di comunicare attraverso il loro cellulare attraverso il smartphone attraverso la rete ci ha consentito di essere aggiornati instant time su tutte le loro attività quindi un backstage a distanza assolutamente importante per supportare noi staff di Porto Matto nell'organizzazione ma anche di dare un supporto eventuale a problemi che si sono comunque verificati sia su Iset Lab sia anche nella realizzazione dei porti nel montaggio in un'ottica condivisa e partecipabile Tu sei il direttore artistico e questo è un tuo problema io ti do Allora adesso estraiamo il premio per il pubblico quindi momento di attesa della serata immagino siete qui per questo d'altronde Il nome è No Ok mettiamo insieme Questa sera avevamo il numero di schienes propositato perché hanno votato abbiamo anche il numero dei votanti 236 votanti questa sera Il miglioratore è Michele Franco è stato il miglioratore e ha avuto anche il pregio di calzare un casco che era migliorato Noi assegniamo invece per quanto riguarda l'IPP Studio nella persona mia e del direttore di fotografia di Ario Corno il premio consistente in una giornata di workshop intensivo di circa 8 ore di formazione tecnica fotografia per il cinema e lavoro sul set Allora i due truppi citrici sono Cortocervello dell'Istituto Fellini e Canella e Bruneri Prezzo speciale offerto da Primissimo Piano un corso di edizione full immersion per Cortocervello è med crew dell'Istituto Fellini Quindi diamo la nostra votazione finale del miglior corto visto questa sera che secondo la giugna è quello dei di Miloè L'assegnazione del primo premio da parte del sindaco della città di Collegno Silvana Costato e il secondo premio va a Canella e Bruneri e il terzo premio è alla troupe gli straccioni e l'ultimo saluto l'ultimo da parte mia ciao è quello dell'assessore e del sindaco bravi grazie a tutti e bravi a Domenico e Capro bravissimi bravi a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti